E signori, per non pagare di più lo scambio switch delle luci ho lasciato sempre le piole Sì, no, no, perché se no pagiamo troppo Cioè, se è passato le patarine Siamo tornati con un nuovo fantastico contenuto 2023 C'è un moscone qua che tu, che se prende questo il pacchetto se lo porta via E stiamo registrando dopo decenni che avevo lo scadone a casa Ma infatti voglio dire... 6-10 No, il mio 7-7-23 E il mio 6-10 No, 7-23, che 6-10 sono scadone a due anni fa Vabbè, 0-3-7, eh Vabbè, no, due mesi ancora Beh, giusto, parlo io che poi ho fatto maniare le cose Concelato completamente No, ma non lo puoi mangiare C'è il ghiaccio Ragazzi, siamo arrivati con un nuovissimo contenuto Madonna Dopo la patina gusto figa Madonna Che sapeva da tutto tranne che è figa Madonna Andiamo a degustare questi pacchetti incredibili Questo è un classico pacchetto cheddar Sì, vuoi le riprese con le fighe Ma che poi aspetta, fermate Vuoi le riprese con le fighe? Ebbè, ovvio Eh, eh Quanti like per questo fantastico video? Due là? Cazzo, mi raccomando Intanto già Giangone lo sa che quando apriremo questi pacchetti Dovrà mettere il fumetto di formaggio Com'è? O esce un topolino Qual è il fumetto? Voglio sapere com'è? Un giallastro Un fumo di formaggio Voglio dire O se lo metti un topolino che esce Bellissimo Che esce dal pacchetto E qui ci metterà Tipo questo Tutto mezzo Eh, funghetti allucinogini Guarda Distorce un po' tutto Stai facendo un editing che è pazzesco Ma lo fa lui tanto Come umano lei Allora, qui abbiamo Io prima assaggerei queste Se ti godi la verità Perché poi se vuoi cedare non si capisce più niente Allora, questo è un gusto cedare E qui abbiamo funghetti allucinogini Anche qui No Tasse Magic Truffle Sì, non è fungo magico Sì, sì È Magic Truffle Sì No preservativi Yes for la trippa Allora, sopra me C'è scritto Per la trippa E non tasse Perfetto Sei pronto Qui che doveva uscire? Ah, ok Ah, ok Perché non mi ricordavo Che doveva uscire Oddio Mamma mia Ma tu mi hai fatto Di nuovo la luce Ma tu pensa Se non metto un cazzo di editing E io a te così Tu coglioni Odora Ti senti un po' fatto Madonna Guarda il moscone C'è sta un moscone Oh, è un moscone Da sotto È maturità Oh, comunque Sanno come quell'altro Sì, l'odore è quello Sento un po' freddo Vero Vediamo un po' Un po' sì Una bavetta Tipo Un po' sì Questo è diverso C'è una polverina sopra E cala Mamma mia Ma sono due Mamma mia Mamma mia Ma che è Santo Dio È tipo Tartufo Tartufo del merda Devo dire Tartufo del merda Santo Dio No, che la faccio Ragà Vi giuro Che sono di una Schifo Ma una roba Ma che è no bello Ma che ne so Mamma mia Ma aspetta Mamma mia Io ti sono andato convinto C'è la polverina maggi Oh, regà Ma veramente Lo schifo Tipo quelle Che è gusto figa Che face uno schifo Ma no Ma non ha senso Porta miseria Io sono andato bello convinto Ma pure io Ci sono patatine Potranno mai Fa schifo Tiè Questo lo dammo a verona Così dopo se lo mangi Buona Bella caduosa Mamma mia Cioè Venga Venga La regà Oh No Ma no Vado Vado Ma faceva schifo Prima Anche adesso Bonio Massa Consigliatissime Sai incazzare C'ha ragione Sai incazzare Oh Se non che ti so così Da quanto A 1 a 5 funghi allucinogeni Ma zero Mamma mia Fanno veramente schifo Beh Per giuro assaggiate Perché Assaggia Ma senti che sapore Oh noi siamo andati convinti Tutto Non mi aspetto Brutte oh Brutte Brutte Ma brutte Ma vabbè Quei mozzi che t'ha sorso Che magna Ma fanno proprio schifo No C'hanno un sapore stranissimo Ma Sono proprio brutte Ma non gli arriva Che la bocca qua Sì Ma per giocare Mamma mia Ma non c'è un sender Ma non sender Oh che passatorino Oh Adesso vai Avanti gara Una torca Un sorcone Un sorcone Oh Il prima patatina Che sa come le altre Ma il sender Io dico no Ma qual è il problema Il patatino Mi diceva la torca Un sorcone Aspetta perché solo una Guarda È grossa Assaggiamo Ma non so Non mi piacciono E non sanno di cedera Sembra quasi più burro Ma ragazzi sono molto grasse Sono molto ulte Io Anche tu Ah Schifo Ma A me Almeno Io Da 1 a 5 Forme di formaggio Uno Uno Io uno Non ho messo neanche Ragazzi Boh Bel video Bello Bello Ci è piaciuto tutto Pensa se lo facciamo prima Che schifo Se una mormina pure La canna Ragazzi Questo video di alto contenuto È terminato Ma che è scoraggiato pure No 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 Perché ci non può scotare il culo Ragazzi Questo video è terminato Noi speriamo vi sia piaciuto Ma vi posso garantire Che hanno fatto veramente Cagare Ti devo dire L'odore Sono tutte e quattro uguali Sì Il migliore che era un buone È quella La canna La canna Di sapore sì Di piccantezza Quelle piccanti c'è stavano Ma vero È un moscone Se voglio sapere Come fare Niente Se volete provarle Provate Ma per me Butta i risardi Scegliamo Il prossimo video Di altissima Come in da 2023 2023 Come hai detto È nostro È il mio del gioco E basta Abbiamo fatto Ciao belli Sì ma adesso siete Ti ascolta Ti racconterò Con la calma Ogni pianto Ed ogni patosta Tutto quello Che ho sulla pelle Sembra tattoo Ma è solo buio Parte dal viso Non può curare Vedo del bene Dentro sto male Prima le crisi Con frigo vuoto Ora sto pieno Anche se è vuoto Sentire mamma Che piangeva a letto Grazie a tutti